Sibra è stato molto coraggioso perché invece di scegliere la strada di una mediazione impesticciata, come molti gli avevano suggerito, ha scelto la strada più dura, più difficile ma anche più giusta che è quella invece di andare a porre una condizione generale che non è quella di ridurre un po' più il debito, di rinviarlo un po' più in lama, ma invece di ridiscutere la politica europea. Una vittoria a cui ho avuto modo di partecipare fisicamente nelle giornate bellissime di chiusura della campagna elettorale nella festa del post-voto, credo che sia già evidente dalle prime misure intraprese dal governo Tsipras quale sarà l'indirizzo, ovvero la rottura finalmente con le politiche di austerità. Siriza significa, come sappiamo, coalizione della sinistra radicale. È importante che finalmente si prenda atto del fatto che radicale non è sinonimo di minoritario o testimoniale. È stata proprio la radicalità di Siriza, la sua volontà di non scendere a compromessi col PASOC, la sua capacità di costruire mutualismo e conflitto sociale che ha permesso a Siriza di diventare forza di governo. Quindi non il tema delle alleanze politiche, non lo spostare a sinistra la sinistra di governo, ma farsi forza di governo cambiando i rapporti di forza nella società. Concretamente, realisticamente, cosa potrà fare il governo greco per la sua situazione finanziaria? Ovviamente i margini di manovra del governo greco sono economicamente limitati, nel senso che i vincoli sono, come è noto, molti. Qualcuno li sta anche usando in maniera un po' spregiudicata nell'Unione Europea per ricattare i greci. Io credo che però Tsipras abbia una grande forza ed è il consenso popolare che ha registrato. Credo che questo gli dia una forza negoziale molto significativa, come credo anche che le prime mosse del suo governo siano state molto intelligenti da questo punto di vista, perché ha aperto un'interlocuzione al di là che, oltre che con gli partner europei, anche con Russia, Cina e altri attori che potrebbero intervenire a sostegno del Paese. Ecco, io credo che questo ci aiuta a capire poi, al di là delle tecnicalità, che non è scritto da nessuna parte che una svalutazione sia per forza negativa e forse non è scritto neanche da nessuna parte che una moneta disfunzionale, come è stata l'euro, ce la dovremo tenere per i prossimi millenni. Con ogni evidenza la vittoria in Grecia ha determinato l'esito che pensavamo, e cioè è stato un enorme sasso nello stagno di una politica europea neoliberista, di austerità negativa, che è andata avanti perché tutti i governi hanno sempre detto signor sia la Merkel. E la prima volta che c'è uno che dice signor no, come hanno detto i greci in questi giorni, forte e chiaro, tutto il mondo si è rimesso in movimento. Io penso che siamo solo alle prime battute, il punto vero che c'è è che i greci stanno facendo la loro parte fino in fondo e con coraggio. Adesso tocca a noi fare la nostra e quindi vuol dire aprire in tutti i Paesi europei uno scontro dicendo che il problema non è il rapporto tra Grecia e altri Paesi, il problema è un rapporto tra i banchieri e i popoli europei e quindi bisogna appoggiare le richieste del governo greco perché tutti i Paesi devono vedere il loro debito tagliato, perché questo debito è stato un regalo fatto dai lavoratori, dai pensionati contro la loro volontà ai banchieri e gli speculatori. Quindi la strada proposta dalla Grecia noi la dobbiamo sostenere in tutta Europa e dobbiamo sostenere in tutta Europa che i diversi governi devono prendere le misure che la Grecia sta assumendo. Se Renzi dice che gli piace Zipras lo faccia vedere, blocchi le privatizzazioni, blocchi gli sfratti per morosità, dia a tutti quelli che non hanno modo di pagare la luce la corrente elettrica fino in fondo, aumenti le pensioni al minimo, cioè faccia le misure che sta prendendo Alexis da un punto di vista di maggiore difficoltà di quello dell'Italia. Quindi i greci fanno il loro compito, adesso tocca a noi fare la nostra parte e farla fino in fondo.